eh l'ho disco ho z-combo e j-1-6-airness sono tipo le 3 di notte ma lasciamo perdere hyperboys youtube non mi fa niente ok altaria faccio tuono no non dovevo fare tuono facciamogli un hyperboys ed entriamo vediamo risposta a questa bellezza ma che bellezza giocare xm con quattro mosse senza protect ora lo so che mi swappo anche la famiglia ah thunder wave quindi c'è solo 187 di speed se ha uno stillo veloce e fisico forse può farmi qualcosa chandelure chandelure ma dove vai zio sostituto male molto male ok dai chiaramente non ti salverà bro a meno che solita fortuna voglia che io rimanga paralizzato no dai buono 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 questo xerneas l'attivo 3 kill io dice che è buono non mi hai diruggendo a questo xerneas addio no ok addio addio amici addio addio noi ci dobbiamo lasciare ma io dico che è ok ho già chiesto scusa il mio avversario e c'ho pure come mi mi so non l'all sempre